Cosa faresti se ti mettessi davanti? Chi ti ha rovinato la vita, la uccideresti. Quando sentirai queste parole saranno passati sette anni. E ora sei lì, all'inizio della tua nuova vita. Può essere sconvolgente. Conoscere il futuro. Cosa sei, uno sbirro? Sono un agente temporale. Preveniamo i crimini prima che avvengano. Quello cos'è? Una macchina del tempo. Non superare il limite del salto temporale o avrai problemi. Per fermare Fizzle Bomber avrai una sola occasione. Il tempo trova sempre il modo di raggiungerci. Puoi farlo. Che stai dicendo? Cosa ha a che fare con me? Sei venuto al mondo attraverso un paradosso temporale. Devi piantare i semi del futuro. Io so da dove vengo, ma voi sapete da dove venite. Cosa faresti se fosse qui? Lo uccideresti. Cosa fa? Lacoste faresti a ti day. Che sü,ücht. Cosa faresti. Via lo buona.